Prima di iniziare questa lezione vi ricordo, come ho peraltro già annunciato, che in diversi casi, e questo sarà uno di questi casi, io esagererò molto con la quantità di maschera di contrasto per essere sicuro che se ne vedano gli effetti. Naturalmente questa è una manovra di tipo didattico, ma ricordate in ogni caso che se lavoriamo su un livello separato abbiamo sempre l'opacità che può ridurre l'impatto di ciò che andremo a fare. In questo bel portone di una chiesa, che andiamo adesso a zoomare al 50%, vogliamo provare ad applicare la maschera di contrasto, non tanto con il filtro accentuapassaggio come abbiamo visto nella lezione precedente, ma direttamente con il filtro maschera di contrasto, che è comunque di fatto un modo semplice per applicare esattamente un accentuapassaggio. Non c'è una grande differenza per non dire che non c'era nessuna tra i due. Di solito lavoriamo su un livello duplicato per poter tornare indietro se ne abbiamo bisogno, quindi dallo sfondo andiamo a duplicare il livello e andiamo su filtro, nitidezza, maschera di contrasto. Questa volta andiamo ad applicare un fattore 500, io direi un raggio pari a 2 e lasciamo per il momento la soglia a 0. Innanzitutto, prima cosa, abbiamo esagerato? Beh, direi certamente di sì rispetto a qualsiasi standard. Quello che mi importa di più però in questo momento è che vediate come questi aloni che si creano, più chiari o più scuri, servano per l'appunto a disegnare in qualche modo i profili dei dettagli sottili, quelli che hanno delle frequenze che vanno da 2 pixel in su. Attenzione che quando parlo di frequenze alte mi riferisco a raggi bassi, quindi non confondetevi, sarebbe da 2 pixel in giù se pensiamo in termini di raggio, ma le frequenze sono un po' l'inverso di questo, se vogliamo, frequenze elevate, raggi piccoli. Prima cosa, metodo di fusione normale o luminosità? Direi certamente luminosità. Andiamo al 100%, guardate cosa succede. Questi sono gli effetti degli aloni chiari, vedete? Certe parti vengono ferocemente schiarite, ma nel momento in cui lo facciamo con un metodo di fusione normale abbiamo uno shift cromatico che appena il raggio diventa un attimo invadente non è assolutamente accettabile, per cui la prima cosa da fare è questa. Attenzione però perché siccome vogliamo fare delle altre operazioni con questo livello, quello che io consiglio di fare è questo. ripartiamo da zero. Duplichiamo il livello originale, andiamo a richiamare l'ultimo filtro, quindi Command o Control F oppure dal menu, che è la nostra maschera di contrasto e prima di fare qualsiasi altra cosa, senza andare a cambiare quel metodo di fusione, memorizziamo così per sempre in Photoshop il fatto che lo vogliamo in luminosità. Come si fa? Andiamo sul menu modifica, dissolvi maschera di contrasto e andiamo a selezionare metodo luminosità qui dal menu. Diamo ok e abbiamo il nostro sharpening in metodo luminosità. La prima cosa che vi voglio far vedere è questa. Permettetemi di duplicare questo livello, quindi abbiamo due livelli di sharpening uguali. Adesso per ragioni mnemoniche andrò a rinominare quello superiore in schiarisci e quello creato prima in scurisci. Vi ricordo che ho già fatto la fusione in luminosità. Disattiviamo questo e passiamo da metodo di fusione normale a scurisci, come il nome suggerisce. Osservate, in questo modo avviene l'azione di sharpening ma soltanto con gli aloni più scuri. Perché? Perché a causa del metodo di fusione che è scurisci, gli aloni chiari non possono passare perché sono più chiari dell'immagine sottostante. Allo stesso modo, se io vado ad attivare questo e lo metto in schiarisci, uccido tutti gli aloni scuri e rimangono soltanto quelli chiari. Ora, la domanda è questa. Naturalmente lo sharpening originale è questo, ovvero sia con gli aloni scuri che con gli aloni chiari. Al vostro occhio danno più fastidio quelli chiari o quelli scuri? Andiamo a vedere. Per quanto sia forte, questo effetto è ancora abbastanza accettabile. Vi ricordo che lo stiamo vedendo al 100%. Questo effetto è molto, molto più impattante. Questa non è una regola che vale sempre, ma vale la maggior parte delle volte, cioè noi percepiamo di più e in maniera più fastidiosa, se vogliamo, gli aloni chiari rispetto a quegli scuri. Una prassi, quindi, è quella di dividere gli aloni su due livelli e ridurre l'opacità del livello più chiaro di solito, diciamo al 50%. Naturalmente possiamo lasciare al 100% invece il livello di sharpening basato solo sugli aloni scuri. Torniamo al 50% di ingrandimento stavolta e andiamo a vedere. Questo è senza lo sharpening, questo è con lo sharpening. Abbastanza estremo, ma molto più accettabile di prima. Un'altra cosa che possiamo fare per mitigare questo, a questo punto, è andare a creare un gruppo da questi due livelli. lo chiameremo gruppo USM, un sharp mask, e a questo gruppo, se applichiamo una maschera di livello, possiamo applicare dallo sfondo l'immagine invertita. Questo, di nuovo, guardate, senza la maschera e con la maschera, senza la maschera e con la maschera, va a ridurre l'effetto dello sharpening. Proviamo a vedere da qui a qui. Vi ricordo che per quanto sia eccessivo il mio intervento, la visualizzazione dello sharpening al 100% è sempre sconsigliata, perché si tende a vedere, specialmente su certi monitor, degli effetti collaterali molto più gravi di quanto non siano in realtà. Vi chiederete però perché ho applicato una maschera negativa come questa? Perché che cosa fa questa maschera? Beh, la sua funzione è quella di lasciar passare il livello di sharpening nelle parti sue più chiare, che corrispondono quindi naturalmente alle ombre dell'originale, e invece, essendo scura, di mitigare molto la cosa nelle parti più chiare. È esattamente una questione percettiva. Noi siamo più portati a cercare di vedere il dettaglio nelle ombre che nelle luci. È una questione anche di sensibilità dell'occhio. Di conseguenza, con questo ingrandimento che ora è al 25%, siamo passati da questa versione dell'immagine a questa versione dell'immagine, che sembra semplicemente aver avuto in qualche modo una botta di illuminazione, anche molto piacevole dal mio punto di vista, e direi che lo stesso può valere anche se passiamo al 50%. Se ritenete che questo sia eccessivo, possiamo abbassare l'opacità, per esempio, dal 100% al 70% e andare quindi a mitigare questo effetto. Vediamo un po'. Con Command o Control Z alternando, opacità al 100%, opacità al 70%. Io mi dichiarerei soddisfatto. E questa è la prima applicazione di maschera di contrasto completa in RGB che abbiamo visto. Vi faccio notare, forse non vi sarà sfuggito, che questa questione di utilizzare due livelli, scurisci, schiarisci, utilizzare schiarisci al 50%, applicare la maschera invertita, non è altro che un'altra maniera di implementare la famosa mazzetta di Davide Barranca. Di conseguenza, quello che abbiamo fatto e che didatticamente era importante da vedere, si riduce sostanzialmente a questo, che noi possiamo andare a recuperare la nostra immagine originale, ma otteniamo esattamente lo stesso effetto se clicchiamo sulla nostra azione fatta prima, con l'unica differenza che il raggio, se ricordate, non era più di due pixel, ma di un pixel. Se volete avere la possibilità di scegliere il raggio, è molto facile. Dovete semplicemente attivare la finestra di dialogo, qui, nella voce della maschera di contrasto e succederà questo. Nel momento in cui lanciate l'azione della mazzetta, lei si fermerà, avrete la possibilità di inserire il raggio che preferite e il vostro risultato finale sarà questo. In questo caso, mi raccomando, metodo di fusione luminosità per evitare che ci siano shift cromatici, perché un raggio pari a due pixel comincia già a dare delle difficoltà. Il problema dei shift cromatici nello sharpening è molto sentito. Per questo motivo, nelle prossime tre lezioni, vorrei parlarvi dello sharpening nei tre metodi colore principali utilizzati in Photoshop, ovvero RGB, CMYK e Lab. Andiamo a vedere come si possono gestire.